In attesa il vittore della Cavese va soprattutto a questi uomini. Il Milan nonostante il risultato ha giocato molto bene, ma oggi mi hanno detto la Cavese sembrava il Real Madrid. E sono frasi che si commentano da sole. Bene, allora celebra... Sorpresa a San Siro, il Milan va in vantaggio 22esimo con questo gol di Jordan contestato, Piangerelli respinge ma Palsier concede il gol. Cinque minuti dopo il pareggio di Tivelli su un errore di cuochi, su un passaggio retrato. Nella ripresa il gol Piangerelli-Pavone-Di Michele. Ecco il cross per Di Michele e il gol della vittoria sorprendente della Cavese sul Milan. Continuiamo la rassegna delle immagini montate da Dino Martini.